benvenuti come sempre amici all'interno del paradiso del risparmio uguale queen car state pensando di cambiare la vostra automobile con una nuova di casa mitsubishi ma indra o san young questo è il posto giusto corso grossetto 18 torino ben ritrovato anche a massimiliano ciao ben ritrovati a tutti mese straordinario addirittura questo mese chi ha un'autovettura che vale zero queen car vi offre fino a 10.000 euro di risparmio 400 autovetture a chilometro zero aziendali fiat lancia abart mitsubishi sa young ma indra ma soprattutto come le paghiamo queste vetture con zero anticipo prima rata il prossimo anno addirittura arriviamo fino ad aprile con piccole rate mensili a partire da 90 euro al mese assicurazione manutenzione e con la formula evergreen anche le gomme da neve e allora amici buttatevi al telecomando rimanete con noi e rimanete con le grandi opportunità d'acquisto targate queen car partiamo subito con le offerte chilometro zero in casa mitsubishi mitsubishi spestar mille benzine attenzione al prezzo con la rottamazione risparmiamo fino a 5.000 euro e il prezzo 7.900 euro sempre con l'assicurazione manutenzione sempre zero anticipo mitsubishi eclipse 1.500 benzina 163 cavalli turbo la motorizzazione 2.2 turbo diesel 4x4 anche qui super rottamazione fino a 10.000 euro di risparmio e il prezzo 17.900 euro bellissima full optional unico esemplare ancora rimasto per chi arriva prima fa un grande affare parliamo di automobile a chilometri zero un outlander 2000 benzina gpl non vi voglio dire il prezzo finale ma vi voglio dire che da questa automobile chi arriva domani e l'acquista ha un risparmio incondizionato di 10.000 euro avete capito bene uno sconto di 10.000 euro dal prezzo del listino vuol dire acquistare quest'automobile ad un prezzo piccolissimo automobile nuova a chilometri zero 2000 benzina gpl sempre in casa mitsubishi non può mancare l'l200 doppia cabina cabina singola chilometro zero addirittura questa autovettura alla porta di via 18.900 euro più iva sempre possibilità di leasing finanziamento piccole rate bensili manutenzione furti incendio e casco inclusa nella rata cercate un'autovettura gpl in casa mitsubishi ce n'è in pronta consegna la sx 2000 pensate 150 cavalli 5 anni di garanzia versione full optional a partire da 17.900 euro sempre con la super rottamazione che arriva fino a 6.000 euro se avete pensato di passare al full electric anche solo con un'automobile in casa magari quella che si utilizza più in città mitsubishi miev potrebbe essere l'automobile che fa per voi parliamo dell'automobile di mitsubishi full electric piccola compatta ma grande dentro una tecnologia incredibile ricaricabile chiaramente con la spina di casa che gode di tantissimi vantaggi beh è inutile dire sconti sull'assicurazione non paga il bollo gira ovunque senza alcun blocco e tanti altri vantaggi quale il costo del carburante perché qui la benzina non si mette più ma si attacca semplicemente alla spina e si ricarica tanti chilometri da percorrere con un costo veramente piccolissimo attenzione perché oggi l'elettrico è possibile in casa mitsubishi e queen car vi dà l'opportunità di acquistare quest'automobile pensate a soli 149 euro al mese zero anticipo avete capito bene 149 euro al mese per viaggiare elettrico concessionario ufficiali sayong non può mancare qui alla queen car la tivoli nuova motorizzazione 1200 benzina 1500 benzina gpl in pronta consegna e anche la motorizzazione 1600 turbo diesel 7.000 euro di risparmio con la rottamazione piccole rate mensili vi ricordiamo il prezzo 12.900 euro per questo mese queen car vi offre anche l'assicurazione e la manutenzione inclusa nella rata sempre in casa sayong sempre anche gpl non può mancare il nuovo corando 1500 benzina 163 cavalli 5 anni di garanzia 7.000 euro di risparmio con la rottamazione e il prezzo 19.900 euro solo da queen car venitela a provare su strada concessionario ufficiali maindra non possono mancare qui le offerte sul chilometro zero la cuv 100 1200 benzina anche gpl in pronta consegna a 9.900 euro cercate spazio comodità un 7 posti anche 4 per 4 non può mancare l'xv 500 sempre con 5 anni di garanzia sempre super rottamazione che arriva fino a 5.000 euro e il prezzo straordinario 18.900 euro anche qui venitela a vedere e provare su strada e se state cercando un'automobile d'occasione aziendale con pochissimi chilometri pari al nuovo qui da queen car ne trovate veramente molte come ad esempio questa fiat 500 a partire da 8.900 euro oppure se cercate un po più di spazio la 500 x a 12.900 euro sempre il risparmio quella queen car con le vetture aziendali bellissima fiat panda 4 per 4 a che prezzo 9.900 euro non può mancare anche la juke bellissima full option a 8.900 euro e 1.500 turbo diesel passiamo sempre in casa fiat la 500 l anche qui straordinario 11.900 euro sempre con zero anticipo assicurazione e manutenzione inclusa nella rata fiat panda a chilometri zero benzina gpl a partire da soltanto 7.900 euro lancia y aziendale pochissimi chilometri pari al nuovo 8.900 euro da queen car non trovate solo nuovo chilometro zero aziendale ma anche usato garantito un esempio toyota yaris ibrida a 8.900 euro fiat tipo aziendale da 8.900 euro jeep reneghe pensate 16 turbo diesel all mille benzina 16.900 euro non possono mancare le 500 x benzina gpl turbo diesel da 12.900 euro lancia y sempre chilometro zero aziendali ibride a partire da 8.900 euro non possono mancare le fiat panda tutte le motorizzazioni gpl benzina metano anche qui super prezzo 7.900 euro cosa aspettate venite alla queen car questo è il mese del risparmio ciao a tutti da andrea bentornati in queen car vi aspetto numerosi per scoprire le nuove promozioni di noleggio a lungo termine presso il nostro mobility store l'isis anche a privati ancora pochi secondi a nostra disposizione e se non avete visto in questa speciale puntata delle auto della settimana l'automobile che state cercando nessun problema vi ricordo che da queen car trovate oltre 400 automobili a chilometri zero trovate automobili nuove aziendali ed occasione ma attenzione perché queen car non è solo a torino ma la trovate anche a car magnola e pianezza e poi ha una grande novità queen car perché se avete piacere di acquistare l'automobile le automobili ci sono in pronta consegne come sempre al miglior prezzo garantito ma se avete piacere è possibile anche noleggiare sì certamente qui a torino apre il nuovo centro l'isis per tutti i noleggi di marca fiat lancia abart mitsubishi sayong ma con piccole rate mensili anche lì ci scordiamo di pagare il bollo l'assicurazione la manutenzione sicure anche con l'assistenza sempre qui con rate a partire da 178 euro più iva pensate la 500 nuova ibrida addirittura 178 euro più iva ma vi ricordiamo questo mese rottamazione c'è ancora la rottamazione qui da queen car che arriva fino a 10.000 euro possiamo comprare la macchina con zero anticipo e scegliere poi se ridarle indietro quando vogliamo e allora un ringraziamento a massimiliano grazie a voi tutti per l'attenzione vi aspettiamo all'interno della sede di torino nuova grande sede concessionaria ufficiale mitsubishi maindra sayong queen car uguale paradiso del risparmio torino corso grossetto 18 18